bene eccoci qua siamo live allora e direi di aspettare qualche secondo almeno giusto per dare tempo di a qualcuno di collegarsi vediamo un po e poi e poi partiamo quando vuoi siamo pronti va bene dai iniziamo iniziamo allora innanzitutto un saluto a tutti coloro che ci seguiranno nel corso di questa diretta e grazie per il tempo che dedicherete a questo a questo webinar e dopo il webinar del 16 dicembre quello di pochi giorni fa l'associazione poligonal ne ha realizzato un altro il secondo questo qui con amir vital e con amir mohamed dell'associazione diritti al cuore dove parleremo di dove parleremo dell'africa ai tempi della seconda andata quindi cercheremo di fare un focus sul continente africano cercando di capire qual è la situazione attuale non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista politico sociale economico più in generale cercheremo di capire le conseguenze della pandemia sotto diversi profili nel in africa e con amir si tratta in realtà già del secondo incontro che facciamo sul sul tema qualcuno di voi forse ricorderà che nel mese di maggio realizzammo insieme a tre associazioni oltre confine futuro prossimo e comitato civico cori una serie di incontri sul diritto alla salute tra questi ci fu anche l'incontro fatto con amir mohamed sull'africa ai tempi della pandemia era maggio e nel frattempo sono passati dei mesi e il quadro non solo africano ma globale è cambiato cercheremo quindi di capire come è cambiato cercheremo quindi di vedere se la situazione è migliorata oppure è peggiorata insomma sarà un da una parte sarà una prosecuzione di quello che realizzammo nel nel mese di maggio io ringrazio innanzitutto amire l'associazione diritti al cuore sempre disponibile per questo tipo di iniziative e direi a questo punto di passare la parola a lui a cui chiedo di presentarsi un pochino presentare un po' l'associazione diritti al cuore ciao angelo buon pomeriggio e innanzitutto grazie grazie a te grazie a poligonale per questi per questi eventi e per darci anche a noi l'opportunità di di parlare e di dibattere su argomenti interessanti e all'ordine del giorno e io appunto sono amire sono faccio parte dell'associazione della olus diritti al cuore che è una olus che da circa 20 anni si occupa di progetti di sviluppo in italia senegal e gambia sono progetti principalmente di stampo socio sanitario e soprattutto declinati diciamo al femminile al mondo dell'infanzia in altre parole vuol dire che abbiamo progetti appunto che sono volti a sostenere il sistema sanitario locale in particolare di dakar e della sua periferia e a sostenere le attività e lo sviluppo delle donne e in particolare per esempio per fare per fare alcuni per dare alcune attività che facciamo a pechine nella periferia di dakar abbiamo un ambulatorio donne prima infanzia che appunto fornisce visite specialistiche alle donne incinta e gli e bambini e abbiamo delle attività di microcredito rivolte alle donne uno sportello psicologico per le donne vittima di violenza e abbiamo anche attività di sanitarie nei villaggi e volta appunto a sostenere il fragile sistema sanitario nei villaggi e a collegare e a collegare i centri sanitari con i luoghi più remoti per permettere alla gente di di curarsi nei nei casi più urgenti questi sono soltanto alcuni dei nostri progetti abbiamo anche a tante attività di sostegno agli studi universitari alle alle ragazze senegalesi che studiano medicina infermieristica e quindi siamo contenti anche e soprattutto in questo periodo di pandemia ci teniamo a portare avanti più che mai le nostre attività perché proprio ora che che c'è più bisogno in realtà e infatti la prima bella notizia di una delle poche belle notizie di questo 2020 è che per esempio i nostri progetti di servizio civile universale hanno potuto riprendere da qualche settimana da da quasi un mese infatti i nostri volontari sono potuti rientrare a dakar e riprendere le attività e questo perché perché in senegal è la situazione la gestione della pandemia più avanti ne parleremo meglio in senegal la situazione diciamo è tranquilla fra virgolette nel senso che è possibile tenerla sotto controllo e che i nostri è possibile far lavorare i nostri civilisti in condizioni di lavoro sicure nonostante comunque eh l'andamento dei contagi e prima di entrare nel nel vivo del discorso mi mi piacerebbe anche con te con con voi dell'associazione commentare commentare brevemente innanzitutto la la bellissima notizia di ieri che fra l'altro era la giornata internazionale dei migranti la notizia sulla sull'abolizione sull'annullamento dei decreti sicurezza di di Salvini e molto volentieri vai questa insomma una notizia che un fuori tema che vale la pena raccontare vale la pena commentare perché è forse una delle più belle notizie del duemilaventi e finalmente appunto sono stati aboliti i nuovi decreti sicurezza fra l'altro con una risa in senato che ha portato un questore ed altre persone in infermeria questo per far capire quanto è stata contesa e violenta la la questione con proteste secondo me gravissime da parte di esponenti della lega e quindi sono stati aboliti queste leghe di sicurezza e nel dettaglio eh è stata reintrodotta di fatto la protezione umanitaria per i chiedenti asilo che era stata cancellata dai decreti Salvini che fra l'altro aveva messo in questa questa politica aveva messo in strada migliaia di migranti dotati di regolare permesso di soggiorno inoltre il nuovo decreto sicurezza stabilisce che sono convertibili finalmente in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno che erano stati dati per motivi per ragioni umanitarie inoltre perché per quel che riguarda le ONG che forse è un po' la la parte che più ci interessa sono state ridotte le multe ricordiamo che con i decreti Salvini c'erano multe che arrivavano addirittura fino a un milione di euro e adesso sono state ridotte non potranno superare i cinquantamila euro e sono state eliminate anche le sanzioni amministrative che erano state introdotte nei confronti delle ONG che operavano in mare compresa per esempio la confisca delle navi cosa che non è più possibile quindi insomma queste sono le principali novità un'altra novità per esempio è che il divieto d'ingresso adesso il divieto d'ingresso delle navi riguarderà soltanto quelle navi che non comunicano precedentemente che cosa stanno facendo qual è la loro missione in mare per tutte le altre invece sarà sarà concesso mentre prima invece il governo aveva diciamo aveva il potere di impedire l'ingresso nelle acque territoriali e le navi accusate di di violare le leggi contro l'immigrazione e un'altra importante novità che mi preme sottolineare in realtà è anche che ora i richiedenti asilo potranno finalmente eh accedere al sistema d'accoglienza diffusa che è quello conosciuto come ex SPRAR ex si proimi perché adesso si chiama SAI ovvero il sistema di accoglienza e integrazione vediamo due parole chiavi qui fondamentali finalmente si parla un sistema non solo di accoglienza ma anche di integrazione dove è stata è stato si spera si costituirà una rete capillare sull'impronta dei dei SPRAR una rete capillare di centri per gestire l'integrazione dei nuovi arrivati nuovi arrivati che finalmente non saranno più fantasmi numeri persone che vagano illegalmente nel territorio ma che che saranno finalmente esseri umani a quali insomma verrà dato nome cognome e dei permessi per per lavorare e quindi niente volevo ricordare prima di entrare nel vivo della questione eh covid in Africa volevo ricordare questa questa bella notizia del del hai fatto benissimo anche perché diciamo che c'è carenza di belle notizie in questo 2020 e un evento del genere merita di essere sottolineato eh merita di essere sottolineato più volte ehm una piccola aggiunta la faccio io diciamo che eh nonostante tutte le tutti i tram di questo 2020 forse sotto il profilo del volontariato della cooperazione internazionale qualche piccola soddisfazione ce la stiamo ce la stiamo togliendo ecco eh il fatto che i degredi Salvini ormai eh sono stati consegnati eh alla storia di questo paese e quindi eh sono stati sostituiti da degreti eh molto più molto più umani il fatto che eh una realtà mi viene da pensare a emergency che si è ritrovata comunque ad avere un ruolo importante nella gestione della pandemia eh nel nel nostro paese dopo tutto il fango che le ONG avevano eh ricevuto in in passato ecco questi sono eventi importanti che veramente eh forse un pochino colorano questo colorano in positivo questo eh questo 2020 e eh prima di eh entrare nel cuore della del cuore dell'argomento ehm io adesso ti cito due nomi eh padre Luigi Maccali e Nicola Chiacchio e ti chiedo quindi di spendere eh due parole su su di loro sì sì ti ringrazio per farmi questa domanda proprio perché l'ultima volta noi avevamo parlato di Silvia Romano era la sua liberazione era un evento che se non sbaglio era accaduto da pochi giorni e come sappiamo è stato un evento che è rimasto sotto i riflettori per per settimane che ha diviso l'opinione pubblica che è indignato è diventato anche un po' un capri spiatoio se ne è parlato a lungo è stata fatta un'enorme diffamazione e ha sollevato problemi di genere molto attuali infatti eh è importante ricordare che a ottobre e il 9 ottobre sono stati liberati appunto Monsignor Luigi Maccali e Nicola Chiacchio che era un turista che in quel momento si trovava in Mali entrambi furono rapiti in Mali rimasero per rimasero per circa due anni nelle mani dei dei loro rapitori e sono stati liberati ad ottobre e è una notizia che è passata molto sotto tono a differenza di quella di Silvia Romano fra l'altro loro non erano soli erano insieme sono stati liberati insieme ad una cooperante francese e e all'ex ministro del Mali capo dell'opposizione furono liberati tutti e quattro fra l'altro la la cooperante francese e si è convertita anche lei al all'Islam durante la durante il rapimento adesso eh si si chiama Miriam e dunque insomma è stato un evento molto importante che è passato sotto tono che non ha ricevuto l'attenzione di Silvia Romano diciamo stesso evento ovvero la liberazione di cittadini italiani eh vittima di rapimento eh però esiti diversi per quel che riguarda il trattamento mediatico che hanno che hanno ricevuto e questo insomma ci ci dovrebbe far riflettere far capire che probabilmente tutte le critiche avvenute sul caso Silvia Romano eh effettivamente probabilmente erano critiche legate al legate al genere legate alla figura di Silvia Romano e a quello che simboleggiava per esempio mh Nicola Chiacchio era un semplice turista che che era lì in Mali non ha ricevuto alcune critiche non si è parlato del perché stava lì perché faceva turismo là eccetera eccetera stesso discorso per Luigi Maccalli nessuno ha chiesto se si sono convertiti all'Islam non è stata sollevata alcuna polemica e i giornali quasi non hanno parlato quindi insomma è bene è bene ricordarlo e come e quando si applicano sempre due pesi e due misure per 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 stessi eventi insomma sì e sicuramente la questione di genere è stata uno dei uno dei motivi che ha portato un po a a quella discussione abbastanza eclatante oserei dire anche un po abbastanza eh vergognosa sotto alcuni aspetti perché comunque si parlava di una ragazza che dopo tante sofferenze era stata rapita era stata prigioniera a lungo eh senza sapere del nulla eh del del proprio destino eh è tornata in Italia e si è trovata a subire anche questa ehm come dire anche questa questo tipo di di sofferenze questo tipo di di attacchi e guardami eh se eh nel corso della diretta ti va eh ti consigli cioè ehm ti consiglio insomma di eh di suggerire eventuali progetti di diritti al cuore sul tema della discriminazione di genere e così approfittiamo di questo webinar per cercare di promuovere anche anche questo tipo di iniziative perché questo tipo di incontri insomma è bello approfittarne anche sotto questo punto di vista no? Assolutamente. E e poi eh chiudo con faccio una chiosa sulle ultime sulle parole che ci sono state ieri da parte di un eh noto politico del eh del panorama italiano eh sul volontariato eh Silvia Romano era una volontaria tanti altri della cooperazione internazionale sono sono dei volontari eh ieri sono uscite dichiarazioni che riguardavano che riguardavano il mondo del volontariato nel senso che eh io il venticinque dicembre vado ad aiutare i crociare eh e quindi chiedo al governo di eh di permetterci di fare di fare questo eh ricordiamo approfittiamone per ricordare che il volontariato è una cosa come dire seria è una cosa molto seria che innanzitutto eh meno uno la predica da una parte e più la fa e quindi è meglio e soprattutto non merita di essere strumentalizzata in eh in in questo modo. No concordo con quello che dici ho letto questa notizia e noi io te e mondo dei volontariati siamo rimasti alquanto eh sterefatti io personalmente anche molto eh in realtà arrabbiato con 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 Salvini e con questo sistema politico che strumentalizza appunto le attività di volontariato che innanzitutto non sono attività spot che si fanno quel giorno lì e ciao secondo non 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 si predicano non si dicono e terzo non dovrebbero essere usate essere fatte come in questo caso come diciamo eh protesta eh alla all'istituzione per esempio della zona rossa il giorno di Natale e quindi come una protesta politica vado a fare volontariato cioè c'è un insulto al mondo del volontariato sotto tanti punti di vista che che non fa altro che continuare a sminuire la 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 tristissima immagine di di Salvini insomma. E possiamo augurarci per il duemilaventuno tra i tanti desideri ecco di che ci sia una concezione diversa di quanto questo mondo che è importantissimo non solo in Italia ma in un po' in tutto il il pianeta. Allora eh solo un secondo prima di entrare nel cuore del discorso ne approfitto con un commento ne approfitto eh eh approfitto di un assist insomma di un commento di Elena Maraviglia che nel momento in cui parlavi dei dell'abolizione dei decreti sicurezza parlava eh scriveva una bella notizia e ne approfitto per dire che eh a tutti coloro che ci seguono che eh se avete delle domande, dubbi, delle curiosità sul tema che stiamo trattando ehm senza problemi scrivete tra i commenti della diretta e poi una volta finita l'intervista, una volta finito il confronto insomma eh cercheremo di pubblicarli sul sullo schermo per eh dare delle risposte. Perfetto Amir, allora ehm arriviamo al al nucleo del del webinar e ti chiedo subito eh che cosa è cambiato in Africa dall'ultima volta che ne abbiamo parlato a maggio ad oggi? Allora sì eh sono cambiate tante cose cambiate molte cose in parte sono peggiorate altre in parte sono relativamente migliorate allora mi spiego eh al momento in Africa oggi ci sono circa due milioni e mezzo di di contagiati e i decessi sono circa cinquantottomila quindi un numero sui dati parlando vedendo i dati un numero molto basso addirittura più basso del numero dei dei decessi in Italia e da un lato di consola perché le proiezioni parlavano le proiezioni al a aprile maggio quando quando ne avevamo parlato e ipotizzavano addirittura cento novantamila decessi dei cento novantamila e trecentomila decessi nell'arco del duemila e venti in Africa e finora i decessi accertati sono cinquantottomila però stiamo sempre parlando appunto dei dati ufficiali che come sappiamo come abbiamo detto anche durante l'ultima eh l'ultimo webinar su questo argomento non sono sempre molto non sono attendibili per tutta una serie di ragioni eh la prima appunto la eh esigua quantità di di test che si fanno nei nei paesi poi mi preme anche ricordare sempre lo stesso discorso che l'Africa comunque un continente che 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 racchiude che include 54 stati differenti non tutti e 54 stati addirittura fanno i test di questi 54 stati ci sono alcuni che ne fanno eh tantissimi quasi la metà tipo il Sud Africa o il Marocco e altri che ne fanno pochissimi quindi è chiaro che è chiaro che i numeri ufficiali dell'Africa sono sempre discutibili però è anche vero e queste sono alcune delle notizie positive è anche vero che eh il sistema sanitario di di numerosi paesi dell'Africa occidentale o del Nord Africa penso al Senegal all'Egitto al Marocco e sono i paesi con cui eh personalmente o per volontariato o più contatto i sistemi sanitari non sono collassati e questo questo è un dato obiettivo non c'è la fila davanti agli ospedali non muore la gente non muore la gente per strada non vediamo immagini atroci come le potevamo vedere magari dell'Ecuador a marzo aprile quindi in questo 2020 si riconferma la lentezza del contagio in Africa si riconferma la lentezza del contagio che è dovuta a differenti fattori in questi mesi ci sono stati tantissimi studi ed analisi sul perché il contagio in Africa è così fortunatamente è così lento o i dati dicono che è così lento e ci sono quattro fattori principali eh il primo fra tutti è come avevamo detto la giovanissima età media del continente infatti ricordiamo che l'età media in Africa è di 20 anni e in paesi per esempio tipo il Senegal è l'età media addirittura di 18 anni e quindi insomma la bassissima età media eh aiuta e sicuramente impedisce i decessi e impedisce anche per esempio il contagio eh la diffusione dei contagi perché tantissimi tantissime persone nell'Africa occidentale è stato visto addirittura il 90% dei contagiati nell'Africa occidentale era sintomatico e dicono che questa e questo questo fattore sia stato anche dovuto alla giovanissima età dei dei contagiati un altro un altro fattore per esempio è l'esperienza precedente che tantissimi stati africani avevano nella gestione delle epidemie come quella per esempio del mi viene in mente dell'ebola eh o del o dell'AIDS e e un'altra addirittura si parla ultimamente si parlava di una immunità diciamo storica che si è creata nell'arco dei decenni e da parte della popolazione africana verso numerosi coronavirus perché sappiamo abbiamo sentito parlare in questi mesi che il coronavirus è una categoria di virus esistono tanti coronavirus qui adesso noi oggi parliamo sempre del SARS-CoV-2 ne esistono altri e e pare numerosi studi affermano che la popolazione africana ha sviluppato delle maggiori resistenze ad altri tipi di coronavirus che quindi questo influenza diciamo la la contagiosità diciamo la blocca la rallenta e e poi soprattutto un altro fattore il quarto fattore che ha diminuito questo impedisce diciamo un'esplosione dei contagi è un fattore direi socio-culturale ovvero che appunto eh in Africa come sappiamo diciamo la sia per le temperature sia per la cultura per lo stile di vita e la quotidianità avviene per lo più in spazi aperti eh sappiamo che eh il lavoro informale la la quotidianità delle persone e lo stile di vita in generale avviene in grandissima parte in spazi aperti e non in spazi chiusi e quindi anche questo in realtà eh dicono viene viene considerato un fattore che ha contribuito a limitare l'esplosione dei contagi e infatti in Africa il problema appunto come dicevamo in questo anche a maggio non è tanto il coronavirus in sé che che obiettivamente è un problema per i decessi è un problema a livello sanitario ma fa molti più fanno molti più problemi la le conseguenze e l'impatto socio-economico del del coronavirus che non il coronavirus in sé e infatti per esempio quello che stiamo vedendo in questi mesi è un aumento incredibile della della povertà e addirittura secondo stime del del centro di di controllo delle malattie dell'Africa e la povertà nel continente aumentata del 2 per cento nel 2020 e si suppone che aumenterà fino al 5 per cento nel 2021 che in altre parole vuol dire 50 milioni di persone in più che vivranno al di sotto della soglia di povertà in in Africa nel 2021 e fra l'altro c'è da ricordare che questa i cosiddetti nuovi poveri la gran parte di loro vivranno nelle nei centri urbani vivranno in zone urbanizzate non più rurali anche in Africa e questo porterà ad un enorme incremento delle disuguaglianze sociali dell'insicurezza e delle del deterioramento delle delle condizioni delle condizioni sanitarie ed economiche un'altra conseguenza che stiamo vedendo in questi mesi è il crollo del del pil mentre i decessi sono stati molto meno molto meno di di quelli che si era che si era diciamo che si era detto a maggio e il crollo del pro capite purtroppo è stato maggiore addirittura fino al 5 per cento si parla entro la fine del 2020 l'inizio del 2021 era stato previsto un po di meno circa il 3 4 per cento invece si parla adesso del 5 per cento e questo ha un impatto drammatico chiaramente su numerosissimi settori e in particolare sul sul mondo del lavoro che già viveva in una situazione di infinità infinita precarietà in Africa e infatti il mondo il mercato del lavoro era già già fragile e soprattutto era già e molto 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 informale addirittura secondo secondo l'ILO l'organizzazione internazionale del lavoro in Africa circa l'ottanta per cento del lavoro era era appunto informale e la pandemia la pandemia di coronavirus sta aumentando queste percentuali perché perché molte persone si stanno trovando senza lavoro o sono costrette a trovare altre fonti di di guadagno e quindi stanno aumentando le persone che passano o che passano dal lavoro formale diciamo regolarizzato al lavoro informale oppure una grande quantità di di persone che stanno che si introducono si inseriscono all'interno del del lavoro informale per eh per cercare nuove fonti d'entrata in questo in questo dramma globale e un'altra situazione purtroppo tragica è appunto il discorso della sanità perché come abbiamo detto eh il sistema sanitario non è collassato eh nei nei paesi africani però abbiamo anche detto che eh questo sta impedendo eh tantissime campagne di vaccinazione sta impedendo che molte persone magari vadano all'ospedale per o dei controlli o dei richiami o delle analisi per la paura del contagio e questa per esempio è una situazione che si sta che si verifica e si sta verificando anche in anche in in Europa in Occidente e quindi stiamo vedendo in tantissimi paesi come la la Nigeria e il Senegal che sono diminuite tantissimo le campagne di vaccinazione che stanno aumentando i morti per esempio per eh diabete per eh AIDS per eh malaria dunque per purtroppo per le malattie storiche che che colpivano in generale il continente africano e più in particolare quella la regione occidentale e quindi quando parlo di mh eh conseguenze drammatiche non tanto del virus in sé ma delle conseguenze di questa crisi mondiale parliamo di questo tipo di cose ovvero della crisi economica che porta in sicurezza lavorativa e alimentare che fa aumentare tantissimo appunto il lavoro informale e parlo di mh una diminuzione delle campagne di vaccinazione una diminuzione del rifornimento dei delle medicine dei farmaci più più comuni e e quindi questo insomma ecco eh hai accennato ai vaccini hai accennato ti ringrazio ehm accennavi ai ai vaccini eh ormai eh notizia di qualche giorno eh ci sono diverse multinazionali che hanno annunciato il loro vaccino ehm in Inghilterra eh già si è cominciata una certa campagna di vaccinazione con tutti i problemi del caso che ci sono stati né con con le prime vaccinazioni insomma e a breve si comincerà anche eh in in Europa eh ovviamente si partirà per fasce sociali eh prima o comunque eh si coinvolgeranno prima gli operatori sanitari eh insomma eh piano piano eh si è tracciata una strada verso la vaccinazione e pochi giorni fa sono usciti alcune alcuni sono usciti alcuni report alcune alcuni articoli che eh parlavano del fatto che eh adesso vada a memoria eh più del eh 50% dei vaccini eh messi a disposizione dalle case farmaceutiche sono stati acquistati eh da una piccola parte del mondo eh dal dall'Occidente eh in in particolare eh che hanno che sembra che abbia preso una eh quantità di vaccini che soddisferà alla fine il quattordici per cento della popolazione mondiale e questo eh ricadrà eh quasi sicuramente in modo negativo sul sul sull'Africa eh tant'è che si parlava anche di ehm di non brevettare i vaccini per favorire una maggiore eh una maggiore diffusione degli stessi eh nelle aree più depresse del mondo. Allora volevo chiederti il tuo pensiero in tal senso eh se la situazione in effetti è è così e insomma a che cosa stiamo andando incontro in in Africa? Allora sì ti confermo innanzitutto per rispondere alla prima cosa che la situazione è così ovvero che eh un piccolo gruppo di paesi occidentali diciamo già ha stipulato accordi accordi miliardari con le multinazionali farmaceutiche per accaparrarsi eh i vaccini quando saranno ufficialmente eh ufficialmente pronti e sicuri per quel che riguarda l'Africa e in realtà per quel che riguarda tutti i continenti è stata lanciata un'iniziativa, un progetto molto importante che dà un po' di speranza che si chiama il progetto COVAX ovvero un'iniziativa lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal CEPI e dal Gavi che sono altre due altre grandissime alleanze sanitarie e è un progetto che ha l'obiettivo di garantire una copertura vaccinale a tutti i paesi a tutti i paesi del mondo soprattutto soprattutto quelli del terzo mondo e infatti questo progetto già si sta muovendo per creare le basi per una distribuzione equa dei vaccini proprio perché eh sia la storia insegna sia tantissimi paesi africani già da mesi stanno stanno premendo la comunità internazionale affinché non si ripetano le enormi ingiustizie del passato perché già abbiamo visto che con i vaccini e con i farmaci sono stati con i ritardi di dei vaccini e dei farmaci in Africa sono state causate milioni e milioni di morti sempre il l'African Central for l'ACDC che sarebbe il centro sanitario delle malattie per l'Africa ha stimato come il continente ha bisogno di un miliardo e mezzo di di dosi di vaccino e nonostante la popolazione africana sia di un miliardo e due e si pensa che ci sia bisogno di fare in tantissimi in tantissimi casi ci sia bisogno di fare dei richiami e quindi eh secondo loro c'è bisogno subito di un miliardo e mezzo di dosi di vaccino e il problema è che mancano per fare i vaccini non serve solo il vaccino ma serve tutta un'infrastruttura e sono già state create diciamo la distribuzione la le vaccinazioni in Africa si fondano fondamentalmente su su tre pilastri e sono dei pilastri stilati sia dall'OMS sia da tantissime agenzie sanitarie africane e innanzitutto quello che richiedono in generale adesso le alleanze sanitarie dell'Africa la prima cosa è di testare i vaccini in Africa questa è la primissima cosa non è scontata e sia per dimostrarne l'efficacia sulla popolazione sia per mettere sin da subito in piedi le infrastrutture necessarie poi a raggiungere gli angoli più remoti del del continente quindi si sta chiedendo già da ora gran voce di testare e creare già da adesso le infrastrutture in Africa non che vengano poi che vengano creati i vaccini altrove e poi vengono importati in Africa ma di eh testarli subito nel continente perché così eh testandoli si creeranno anche allo stesso tempo le infrastrutture o si prepareranno le infrastrutture poi per la futura per la futura distribuzione eh ma non è solo questo vogliono testarli anche per favorire poi il coordinamento fra i fra i produttori fra le istituzioni fra i finanziatori di di questi vaccini e anche l'Africa c'è da dire che in tantissimi paesi si stanno testando vaccini in Senegal in Sudafrica eh in Marocco vado a memoria mi sembra anche in Marocco si stanno testando dei vaccini e il secondo pilastro su cui diciamo dovrebbe basarsi la campagna di vaccinazione in Africa è quello sul fronte finanziario e produttivo quindi abbiamo visto prima di tutto viene richiesto di testare i vaccini in Africa la seconda cosa che viene che viene richiesta sono degli ingenti finanziamenti investimenti nel continente per creare la rete di distribuzione dei vaccino dei vaccini e la la banca di sviluppo africana già eh ha stanziato quattro miliardi di dollari per per questo obiettivo per creare la catena di distribuzione dei vaccini ma anche anche questo in realtà ovvero anche il discorso distribuzione e produzione sarà un grande campo di battaglia in realtà delle delle case produttrici e un campo di battaglia che non che creeranno un pochi ostacoli perché per esempio già si parla di di questi vaccini che eh in stato magari liquido che per conservarli hanno bisogno di di stare a temperature anche di meno venti il che implica la necessità di un di di una refrigerazione che in tantissimi paesi e posti remoti del continente è impossibile è impossibile garantire guarda una una curiosità ma ci saranno cioè quindi ci saranno delle allora stanno sviluppando dei propri vaccini stanno sviluppando in continente africano almeno buona parte degli stati e ci saranno c'è quindi un rischio concreto di influenze dal dall'esterno eh mi viene da pensare ad esempio come già accennammo a maggio no eh qualcuno chiese l'influenza della Cina eh in in Africa e ci sarà secondo te un un qualche gioco particolare insomma si creerà un legame c'è da c'è da aspettarselo mi viene da dire perché guardando quello che è successo storicamente c'è da aspettarselo ovvero una cooperazione di stati occidentali che si accaparrano gran parte delle dosi e che lasciano l'Africa eh l'ultima ruota del carro c'è da aspettarselo però eh come detto questa coalizione COVAX e questo progetto COVAX eh capitanato dall'OMS sta cercando di impedire questo e di garantire un'equa distribuzione dei vaccini a a tutti i continenti per quel che riguarda la la Cina e l'Africa eh i rapporti sanitari in questo momento pandemico pandemico fra Cina e Africa e ti posso dire che la Cina continua come avevamo detto a maggio continua eh con l'invio enorme di 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 dispositivi di protezione individuali mascherine tute eh gel ma anche test e c'è da dire non solo la Cina in quanto la Repubblica Popolare ma anche le le industrie tecnologiche cinesi mi viene da pensare a Huawei o ZTE stanno investendo tantissimo nei nei strumenti sanitari e nei dispositivi di protezione individuale per esempio poche settimane fa in in Etiopia sono stati inviate da parte di Huawei oltre 4 milioni di di mascherine oltre un milione di test e e così anche in Senegal e anche in generale direi in quasi tutti e 54 stati la Cina sta inviando quasi ovunque le ingente quantità di di aiuti e mi piacerebbe condividere per capire meglio di cosa stiamo parlando. Mi provo adesso nonostante vorrei condividere delle infografiche per capire meglio di cosa stiamo parlando vediamo se ci riesco molto volentieri un attimo sto provando a condividere lo schermo ok vediamo si vede una foto allora lo schermo la foto si vede forse devi devi zoomare un pochino se riesci interrompo condivisione ci riprovo ci riprovo con la foto scusami intanto ne approfitto per dire che per ricordare che se ci sono domande dubbi volete chiedere qualcosa scrivete tranquillamente nei commenti sotto la diretta e veramente tra pochissimi minuti nel caso selezioneremo selezioneremo qualcosa ecco non so se si vede una ok si vede questa è una è una mappa che ci mostra appunto dove si stanno effettuando i test per per i vaccini in Africa e possiamo vedere che ci sono alcuni paesi che hanno il puntino nero il puntino rosso il puntino rosso è lì dove si stanno proprio eh facendo i test dei vaccini e invece i puntini neri sono i paesi in cui si trovano le istituzioni che hanno la capacità per per fare queste prove vediamo per esempio in in guinea in guinea bissau in ghana in sud Africa Zambia Zimbabwe Kenya Uganda Egitto si stanno facendo le i test per per il vaccino e vediamo anche che c'è anche un altro numeroso numero di paesi eh che ha le istituzioni adibite per farli che insomma si si stanno stanno lavorando per farli quindi possiamo vedere che mh in Africa anche lì eh il discorso test dei vaccini è molto attivo e si sta lavorando vediamo un'altra infografica che avevo per capire allora questa è molto interessante anche se vediamo se si vede si vede la vedi no aspetta della allora scusa no si vedeva sempre la stessa adesso è sparita anche quella quindi immagino che stai procedendo alla sostituzione allora eccola qui dovrebbe apparire è apparsa sì ora la riprendo esatto e qui possiamo vedere l'andamento l'andamento della della pandemia nei nei vari continenti o comunque regioni del mondo e possiamo vedere eh le da gennaio a dicembre diciamo e vediamo Nord America ed Asia sono le due linee ovvero insomma due le due regioni in cui la il contagio i numeri del contagio sono i più elevati vediamo l'Unione Europea e il Sud America e poi vediamo l'Africa che è una linea diciamo in basso in basso a tutte le principali che quindi ci conferma quello che dicevamo all'inizio ovvero di un andamento del contagio eh direi abbastanza eh limitato rispetto agli altri continenti però ripeto questi sono sempre numeri come detto basati su sui dati ufficiali e quindi ricordiamo che appunto eh diciamo moltissimi paesi dell'Africa direi nessun paese dell'Africa effettua il numero dei test e che effettua i paesi occidentali e poi un'ultimissima infografica che è eh aggiornata proprio a ad oggi è la seguente tolgo un attimo lo schermo e la rimetto eccola qua e questo è l'andamento della pandemia paese per paese in in Africa oggi diciamo e come vediamo aspetta che non la e sembra che il maggior eh il maggior tasso di incidenza ci sia nel nel Sud Africa se non sbaglio giusto? Esatto c'è infatti il Sud Africa proprio il paese africano che presenta più più contagiati eh in particolare nell'ultime quattro settimane è proprio eh esploso il numero dei contagi perché hanno avuto una serie di feste eh religiose e e sociali importanti in cui diciamo la la popolazione non ha rispettato alcuna misura e e quindi nell'ultimo quattro settimane c'è stata una grande esplosione ma allo stesso tempo dobbiamo anche dire che il Sud Africa è il paese africano che fa più di tutti e fa migliaia di test al giorno quasi ai livelli di di dell'Italia o della Spagna quindi ritorniamo forse anche il paese con i dati più attendibili in Africa esattamente esattamente proprio così è e lo stesso immagino vedo il Nord Africa dovrebbe essere l'altro c'è c'è il Marocco che particolarmente che che rappresenta purtroppo più più contagi del Nord Africa a a seguire Egitto Tunisia Algeria e anche qui bisogna dire che da questa mappa possiamo vedere che comunque eh i paesi in cui si fanno più test o comunque gli stati in cui i dati potrebbero essere più attendibili sono anche gli stati che presentano al momento il maggior numero di contagi Sud Africa, Marocco, Egitto eh Algeria e poi vediamo il Etiopia, Eritrea quindi torniamo sempre al discorso che della inaffidabilità obiettiva dei dei dati. Grazie, grazie mille Amir. Guarda eh ci eh andiamo verso la conclusione e c'è una domanda eh di Elena Maraviglia eh quali sono secondo te le principali sfide a cui il mondo della cooperazione deve cercare di rispondere nel prossimo futuro. L'aumento della povertà porterà ad un aumento di aiuti umanitari a discapito dei progetti di sviluppo sul lungo periodo? Sì allora parto da rispondere all'ultima domanda e esprimo la mia la mia opinione e sì l'aumento della povertà porterà ad un aumento di aiuti umanitari nel senso che già da adesso eh gran parte dei finanziamenti internazionali sui progetti di sviluppo sta dando la priorità ai progetti appunto di carattere sanitario e ai progetti di aiuto umanitario ovvero di carattere emergenziale a discapito dei progetti di sviluppo più a lungo più a lungo periodo perché appunto essendo eh essendoci adesso una una grande emergenza mondiale da combattere si dà chiaramente più eh più finanziamenti a questo tipo di progetti qui a discapito dei progetti a lungo periodo. Tra l'altro in questo c'è da dire che la cooperazione ora sta vivendo eh parlo di cooperazione allo sviluppo sta vivendo appunto un periodo di 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 enorme crisi proprio per queste ragioni perché appunto adesso si sta cercando chiaramente di eh ovviare alle difficoltà immediate della della pandemia e mettendo in seconda parte quel che è appunto lo sviluppo a a lungo termine. Le sfide della cooperazione sono in realtà la la prima eh che che mi viene da dire è è quella di fare rete che è un'opportunità e è una necessità in realtà che la pandemia ha fatto emergere ancora di più ovvero che appunto affrontando una pandemia globale e stiamo stiamo notando la comunità internazionale anche il mondo dello sviluppo sta notando che funzionano sempre di più chiaramente delle azioni e messe in marcia da gruppi di ONG, da gruppi di istituzioni e da da reti di enti che che attuano dei progetti. Per esempio appunto viene da citare nuovamente il progetto COVAX che è stato eh che è stato creato da tre grandi agenzie sanitarie mondiali. Stesso discorso vale nella nel mondo della cooperazione e lo sviluppo. Quindi una sfida è attuare in eh gruppo, attuare in squadra e disegnare dei progetti di sviluppo e mi viene da dire con tanti enti del terzo settore insieme ma anche fra enti del terzo settore e istituzioni allo stesso tempo. Quindi non più cosa che già si stava cercando di fare ma che la pandemia eh diciamo eh impone di fare ancora di più. Non più magari progetti individuali di quella singola ONG ma magari progetti più strutturali e creati, disegnati da più organizzazioni differenti. Assolutamente mi viene da mi viene da pensare a questo. Perfetto. Una priorità. E e poi ovviamente. Finisci scusa? No no stavo riprendendo. Continua poi ti dico questo che dicevo. Ah ok. Eh no dicevo l'augurio ovviamente è quello che si possa realizzare insomma questo fare squadra il il prima possibile. E allora Amica prima di chiudere ehm volevi aggiungere qualcosa giusto? Volevo aggiungere l'ultima volevo aggiungere l'ultima cosa riguardo a un discorso a un'altra arma per affrontare la la pandemia in in generale nel mondo e in particolare in Africa ovvero di questo è un discorso che in Africa va affrontato bene ma anche in Europa ovvero di creare di ricreare e riaffermare una importante fiducia e un'importante relazione fra le istituzioni e la popolazione perché questo è un discorso che l'abbiamo visto sia in Italia in tanti paesi europei ma lo vediamo tanto anche in in Africa che ci sono numerose eh correnti e idee di pensiero magari no vax sentimenti antivaccino che chiaramente contrastano la la sconfitta del del virus. Quindi in realtà un altro obiettivo che si è si è dato alla comunità internazionale e si sono dati i paesi africani è proprio quello di combattere la disinformazione e questa è una cosa per esempio in cui una cosa che in paesi come il Senegal e tanti paesi dell'Africa occidentale ci stanno lavorando in maniera particolare e in maniera mi viene da dire anche molto innovativa perché stanno cercando di fare buone di informare la gente a rispettare le misure preventive e di informare la popolazione all'importanza dei vaccini attraverso l'arte urbana attraverso la musica popolare attraverso il rap attraverso i graffiti attraverso i disegni attraverso la musica dunque attraverso canali di comunicazione eh che arrivano a tutti comprensibili da tutti attraverso per esempio anche serie tv satiriche in Senegal è stata creata una serie tv chiamata le virus il virus che appunto tramite la satira tramite eh mini cortometraggi vuole appunto abbattere la disinformazione informare il grande pubblico sull'importanza e rispetto delle misure preventive e e e l'importanza dei vaccini perché già già si intuisce tanto in Europa come in Africa le resistenze che ci saranno sul sulle vaccinazioni eh quest'ultima cosa che hai detto è molto è molto interessante e forse è mancata un po' dalle un po' in Europa un po' in Occidente questo modo di eh combattere la la pandemia e guarda Amire ehm io penso che ci sarà in futuro ci sarà un terzo incontro sempre con te perché comunque gli argomenti gli argomenti che vengono snocciolati e approfonditi e approfonditi sono sempre molto molto interessanti eh però purtroppo il tempo è tiranno e ci dobbiamo avviare alla alla conclusione e allora io innanzitutto ringrazio Amire e di nuovo l'associazione diritti al cuore eh per la disponibilità data eh un grazie a tutti coloro che ci hanno che ci hanno seguiti e chiudiamo questo webinar lasciandovi alcuni riferimenti per entrare in contatto con le nostre due associazioni eh l'associazione di promozione sociale Poligonal e diritti al cuore Onlus per entrare in contatto con Poligonal eh vi consiglio eh vi do il vi metto in sovraimpressione il sito internet ufficiale www.poligonal.ngo e eh vi invito anche a farvi un giretto eh su questa sulla nostra piattaforma poligonal.ngo slash moodle dove eh ci sono eh per tutti voi dei corsi di formazione gratuiti e con possibilità di scaricare un certificato a fini curricolari prima abbiamo parlato di Silvia Romano per fare un esempio si parlava della questione di genere ecco lì troverete ad esempio un corso di formazione chiamato Genders eh che tratta proprio questi questi temi e infine per entrare in contatto con eh l'associazione eh diritti al cuore lascio eh il sito internet www.dirittialcuore.it e di nuovo un grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a Poligonal. Ci vediamo in futuro con diritti al cuore ci rivedremo in futuro sicuramente con tutti voi vi lascio una vi lascio un vi saluto insomma eh con appuntamento ai prossimi webinar che ci saranno nel corso del duemilaventuno. Grazie. Grazie e buona serata. Buona serata.